salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di valfer games io sono valfer il signore dei giochi e bentornati signori dei giochi bentornati su fallout online aveva da un po che non lo registravamo ragazzi eccoci qui con la decima legione quindi diamo un saluto a zio chiri zio chiri e valfer zio chiri e perdonatemi buonasera a tutti youtube buonasera un saluto ad andrea x buonasera ragazzi buonasera un saluto a bonaz un saluto a condriano buonasera one hello for fame ed non mi hanno risposto no weird ragazzi stasera siamo con un'altra fazione giochiamo con gli ultraviolence guys of the ultraviolence say hello to youtube please come avete sentito signori dei giochi siamo internazionali abbiamo inglesi tedeschi francesi nazisti siamo a posto allora oggi andiamo ragazzi in possible pvp zone ovvero la warehouse quindi vediamo un pochino esatto quindi vediamo un pochino com'è la situazione ok warehouse is nobody inside but i see that clodette so we can we have enemies uh excuse me we have some enemies all along uh you guys all ready yes i'm over i'm over c'è un certo talrof dentro per la gloria della decima legione Guarda, 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 guarda Taglo, 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 taglo Taglo, taglo 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 Taglo, la russia, la russia Taglo, la russia Sono morto Ok, ok Ok, respawno e arrivo lì Ragazzi, a quale action point, passiamo lì su un po' Inizio, un po' Trovi, un po' Trovi, un po' Trovi sul Tantana Oltre la onda No, 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 non tirate verso il livello No, no, non tirate verso il livello Non preoccupate, non tirate verso il livello Quali non tirate verso noi Allora, io mi replico tra 20 secondi, ragazzi Quindi tra 20 secondi potrò respawnare e tornare qui per recuperare la mia roba e riaiutare i miei compagni di squadra. Ok, sì, dei giochi non state vedendo ma stiamo picchiando forte un'altra fazione che sono gli Zerg. Sì, infatti non lo stanno vedendo però penso che staranno capendo la situazione. Walford ti aspetta lo spawn. Sì. Taggato. Veloci, veloci. Entriamo da ester, recuperiamo il lutto. Sì, sì. Inzio, inzio. Fermet, vai dietro a noi, vai dietro a noi, fai cuidado. Ok. Non posso scoprire. Fuori, fuori. Ok, tornare, prendi il lutto. Sono morto, sono morto. Testa a scoprire dietro il tronco. Ok, io sto arrivando. Nel frattempo si sente in sottofondo Zio Kirie che succhia la sigaretta elettronica. non capitemi male, ragazzi. Niente al tempo, Giacco con lanciafiamme mi hanno ucciso. Era entrato da West, ero entrato, mi hanno ucciso subito. Da est, da est. Non da West, entra da Est. Da dove eravamo entrati prima. Ok. La situazione. I'm dead. Non so se c'è qualcuno ancora qui. Shit situations. Napalm. You are dead or we are alive? No, no, you are dead probably. Because they respond and they come back, right? They fight for... Ok, yes, they respond from right side. From the right, ok. Just around yourself again, because they keep fighting for sure. No, it was a nice push. Scusate a colpo di tosse, ragazzi, ma... Non sto molto bene. Yeah, it was good, it was good, but... Fuck. Like, I don't have too much people inside, you know, I saw like two only. Yeah, vabbè. That's okay. But they were very surprised to see us and say, oh my God, and start running. Ok, ora posso ritornare. Un correggio rapido, andiamo. I don't know how they escape, or Russian, or post-post was there. Ok, I'm spotting... Spotting... I see nobody. Ok, pochi minuti, e mi unisco subito al loro nel combattimento, anche da nudo. A questo punto li prendo a pugni. Ok, io sto ritornando. Try to enter for... Ok... Ma non ci credo. In deserto mi hanno chiso. Ma che cazzo? Da che parte entro, ragazzi? Excuse me, guys. Change the channel if you're ready. Like, why do you? Ok, no. Perché? Go out, go out, go out. Zelos, why do you shoot me? Zelos. Go, 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 go. Fuck, sorry. Come on, come on to base. I must market you guys. Because I saw three shadow guys, and I was afraid to shoot inside the fight. No, don't worry, no problem. You don't kill me. Ok. No loot inside. They have loot us. So, ragazzi, ci hanno luttato, tornate indietro, e chilateve. Two minutes for a build us, and we are ready. Ok? La roba si è sull'inculati desert world. Ok, ci hanno rubato tutto. Dobbiamo riequipaggiarci. Siamo... Dovete sapere, signori dei giochi, che noi abbiamo avuto nel corso del tempo diverse alleanze. Quella con gli Napalm, con Napalm e gli Ultraviolence, è un'alleanza recente. I Desert Wonders sono stati amici per nostri per molto, molto tempo, ma non hanno gradito la nostra nuova alleanza, e quindi, come dire, sono un po' dimenticati alcune cose. Eh. Adesso noi a suon di fucilate, che li ricorderemo. Eh, sì. Almeno ci proviamo. Ricordiamo che con i signori dei giochi non si gioca. Siamo noi a giocare con loro, non sono loro a giocare con noi. Ok, io mi prendo un'armatura e sono a posto. Questa, ragazzi, che vedete, è la casa mia e di Zio Chiria. Un bunker bello grande. Ok, mi prendo un'armatura. Qui no. Da qualche parte ci sarà. Acquinta accentaco? Un bunker bello grande. Sì. No. Non ho, no. Don't eatersero. Antitercineども. Questa può andare, è ridotta malissimo, ma meglio che niente. Un po' di super Team Pack. Are you ready? Ragazzi voi siete pronti? ma super steampac ci saranno in se we come back sì ma non abbiamo più super steampac noi nel porto penso che 55 a testa sono vabbè penso che ci sono in base gialla io ragazzi velocemente richiratevi e veloce warehouse ok io sono provo che mancano solo i super steampaccio tutto per fare uno sfregio mi sto portando un'armatura sfondata al 71 per cento e non riparabile no 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 non ne ho altre sennò combat armor ne ho due sole va bene ma allora bene avevo trovato un giocatore chiamato vladimir trump c'è la fusione tra vladimir putin e trump come questa storia dai ok io sono nella base blu vicino vuole warehouse di nuovo perdonate al colpo di tosse ragazzi non sto per niente bene ho parlato in italiano che è pronto chi è pronto dungeon che è pronto va sul canale dungeon ok ok allora mi ci passo e arrivo nella base blu che c'è in basso sotto bonne yard ok ho cambiato il canale discord e sneakers out it's not too hard because it's only a specific no no the bad thing from combat so it's ok ok no problem ok grazie per solo so if you kill some guys we can uh if they hide behind the walls or something like this again we can try just whoever looks they tough um when they have condition they can leave drop move back okay the channel okay good hey guys uh let's go and see just second let's make the second ha detto attenzione a chi si nascono dietro i muri non luttate e sparate detente in sintesi sempre warehouse sempre one house well spoon inside inside and three two one go inside okay hey group io e andrex stiamo arrivando information here guys more information here facing south everybody ii 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 hello people fuck quanti cazzo sono curva okay da che parte dobbiamo entrare non entrate non entrate non entrate okay and we're missing people by the way you're thinking there is there is someone because desert wonders now fighting against uh ragazzi warfare spotta this west he sta combattendo per favore i'm looking who fighting against the the desert wonders okay da quale parte west sotto o est o est ok e si c'è un bordello di gente è tutta ammassata vicino ai vostri corpi o dico in cesta allora c'è un certo virus col nome in rosso un certo lane scout un show dan e altri tre che di come sono messi la diciamo escono fuori visuale non si vedono i nomi però sono altre tre persone ci sono non vede clan no no il crane non mi fa vedere le immagini ok other people not desert wonders but we don't know the clan si sono senza clan e si stanno ammazzando anche tra di loro già lina scout no clan people versus desert wonders ragazzi una cosa importante quando vi dicono cambiate canale quando siete pronti dovete cambiare canale quando siete pronti se non siete pronti non entrate in canale ok è importante sta cosa se no noi pensiamo che ci siete quando arriviamo non ci state in cazzo è tutt'uno comunque c'è ancora più gente di prima ora ok is full now warfare is spotting is full of people inside we need a test tent to find the thing we need that or or the wow if we found a good moment while they fight each other it could be interesting but now you know now and now is is very difficult to do something we had no information we need this solution so non sarebbe meglio andare a fare qualche altro dungeon infatti we want to try to do something different sono usati tutti sì ma non ci sono più sono usciti tutti ok ok now is empty but the warfare see 13 14 people what now inside is nobody first warfare when spotted after we are dead see 14 people uh 13 curva yeah i will try working on a sneaker situation yeah if you have a sneaker it's good to put inside and spot something yeah we really need that let's see dal lato west c'è un deathclaw appena morto ok no lato sotto scusa due appena morti ok west side death 2 death deathclaw è uno scioglilingua direi due deathclaw morti in inglese ragazzi è uno scioglilingua eh lo so sì ma poi rimango senza gioco tranquillo ok where we meet ah fine so i was thinking about uh what marit paul so can guys we can try and look for red dots but think red dots something like the riders camp event these things just to show a little bit right because then we can wait for any or for friends sorry i hope for some help for actually we had we don't have any guys of the legione ready for uh for fight no no i like the red dots red dots you know capito andare a fare a farmare tipo eventi camp ah ok sì yeah 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 no problem so mmm yeah i odio vi incontro di nato allora we can meet to um ab nord we have a truck and we can move uh with our truck ah i bring you in our base and we can move with the our truck ah what i can do let me see uh it's uh hammer hammer one hmm hmm um okay 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 good good we're going to get just a few minutes get ready okay we meet in the ab nord okay ab nord okay no no i i'm sorry in the car store i come here with the truck okay 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 but where we meet sorry in the new state sorry no i don't know where we meet meet yeah in car store ab nord car store ab car store sorry yeah yeah sorry okay no zio ma il fatman che c'è al car store è tuo? no okay mi sono rubato un fatman nice nice m***a per davvero per davvero si è avvicinato e scompasso col fatman mettilo al sicuro allora uno dei nostri ragazzi è ancora un fatman in car store ok sto in car store ok 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 ragazzi ragazzi di youtube è la quinta macchina che ruba in sei giorni andrex andrex te le potresti rivendere tutti quei veicoli rubati si si sto per aprire un concessionario di veicoli rubati solo devo capire come cacchi hai fatto a prenderlo così in fretta quale cacchio era il codice eh vabbè quelli sono segreti del mestiere ma ad esempio qui c'è questo buggy taggett ok ok just wait for famine oh no second yeah yeah no problem ok 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 in a car can store ok peperonata is with us ok non sceuti peperonata ok ok which faction is this of junk town scout ok peperonata is one of leggione member of legione ripardonate go col colpo di tosse ragazzi ok ok be better to use or to join the small journey no no the junk town scout is for the nab the faction for nab guys now it's like um okay i think i understand but it it it's like a decimal journey right it's the same yeah he's the same guy he's um if i talk equipment in this corgi is bona fide rita ah it's a great mentor for the small journey so it's a different okay okay we are ready somebody else coming no no i have to check first one thing wait if you are ready we can move okay we can go if someone show up then we can pick up and then when they hit when they hit no problem we can go okay go one second to our base for take some fuel and we can move ah zio ma c'è la trappola vicino the hub no no lascia verde questa ragazzi che vedete è la base della decima legione quella per gli ufficiali per così dire come vedete guardate pixel che cosa ha combinato ragazzi si è messo pure la scrivania qui c'è poi il recinto dei combattimenti selvaggi dove ci accoltelliamo in cui ci sono le mila mila casse piene piene di tappi qui c'è la tenda con le sedie per gli interrogatori dove attacchiamo quelli delle altre fazioni per picchiarli e malmenarli e capirne le informazioni qui nella parte alta invece c'è la zona dove portiamo le prostitute per passarci il tempo piccato che ce ne sono sempre poche one second non trovo le celle energia dove cacchio sono state messe a saperlo prima teleportavo io che avevo la macchina nella base sotto sotto warehouse ma trovate 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 ok ready come vedete ragazzi qui c'è pure l'orto di pixel con la maria e la marijuana volevo dire erba officinale naturale puramente consenziente quindi c'è diciamo che ci hanno dato dei permessi per piantarla lì quindi non preoccupatevi perché ora di piantarla ricordatevelo esatto ok andiamo dai ok go ok ho convinto ok ecco ok ecco ecco ok ok navano yeah tung a sua arche oh ok ok scrivi la password ah ok, è più difficile questo è un truck che stavamo in car store oh sì? ovviamente da me andrea stavamo questo truck cosa? in legione non compro il car, solo stavamo se hai bisogno abbiamo due baghi sì, abbiamo due baghi se hai bisogno se hai bisogno ancora, mafia confirmed bene, prima incontro ok, non problemi come, 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 come come, 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 come siamo tutti sì siamo tutti sì, perfetto ok vai, nabam, new lead sono così sono così per andare fuori con questo tipo di incontro sì ahahahahahahah ok quanto pare talon e rogue stanno facendo qualcosa a Gekko talon e rogue in Gekko? sì, ma vogliono fare qualcosa su quella città non so, ho capito bene talon e rogue love sono l'amore per chi non lo sapesse il camion che stiamo usando è stato... ancora, ero temera poi me lo passi il piede di porco che mi vado a rubare pure io due macchine lì al car store ora è crashato napalm ah napalm is a flame crashed è collassato sulla tastiera yeah napalm? allora su discord c'è yeah buh proviamo ad aspettarlo yeah signori e signori questo è il bello della diretta perché noi siamo signori dei giochi ma anche questo non ci scoraggerà mai no noi siamo signori dei giochi ragazzi non ci arrendiamo e a proposito ne approfittiamo ragazzi per un piccolo annuncio di servizio la legione la decima legione composta prioritariamente da signori dei giochi cerca nuove reclute se vi volete unire ragazzi troverete in descrizione al video ovviamente il link di download del canale del gioco perdonatemi e anche al discord e anche il canale disco ovviamente ragazzi astenersi perdi tempo cerchiamo solo gente che vuole giocare che sappia relazionarsi con altri giocatori e che soprattutto abbia la stoffa dei signori dei giochi quindi non si arrende mai e capisca anche quando deve obbedire agli ordini e discutere meno esatto perché su phone line purtroppo ragazzi i gradi sono l'unica cosa che in un clan ci fa andare avanti infatti ci ha portato molto 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 avanti da quando abbiamo iniziato ora solo grazie ai gradi e all'obbedienza degli ordini ovviamente non siamo nella vita reale nell'esercito per carità divina ma vi posso garantire che la cosa è assolutamente da prendere seriamente ragazzi o erro zio Kiri? Kiri e Kiri e scusa l'abitudine è mia malsana non credo di aver detto sbagliate cose errate no? hai cresciato pure da dire yes hai cresciato ovunque vabbè io Femed you can play with us join legione andrex 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 is there ah ecco infatti Femed ha scritto my leader is dead è morto di infarto al volante a good boy ha attacco di cuore anche lui l'ha detto cioè ha azzeccato quello che io ho detto e non credo che mi aveva capito ma siete finiti tutti? ma stavo... ma... oh ma che cacchio no vi ha buttato fuori tutti quanti giusto? eh sì ma perché penso che sia tipo... esatto venite nella base bianca sotto volt city il trappercamp dici? sì Femed go to the volt city we bring you in volt city rip camion no no stacelo io il camion wifi tech ok e con questo comunque sia ragazzi credo che possiamo terminare questo video perché sta durando anche un po' tanto allora ragazzi spero che questo video ovviamente vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un mi piace e lasciate un commento vi ricordo di aiutare il canale a crescere condividendo i miei video su facebook twitter scusate se riprendo aria o qualsiasi altro social network che voi utilizzate per aiutare il canale a crescere poter essere monetizzato racimolare fondi per la causa del canile detto questo ragazzi un saluto a zio Kirie grazie e buonasera a tutti youtube un saluto a bonaz ciao ciao un saluto ad andreax che si è mutato il microfono e invece no buonasera buonasera arrivederci e un saluto da FIMED thanks saluto e con questo ragazzi si termina questo episodio alla prossima grazie a tutti